Conan Solo lui sa Dire poi la verità Conan Che non promette mai Uno sbaglio Che cerca sempre Barappa come si chiamano i bambini scusa? Fatto Lusi, ce lo mando io Ok No, ho già fatto io Sento scoppiettare Eh, 8 Mi faccio Thank you Lusi Lusi Lusi, mi... Ecco sì Lusi, ti posso chiedere una cosa? Lo sai che... Cioè, ti posso dire una cosa? Dada? Ti ricordi Dada, no? Te lo spammavo in chat Che è un grande, eccetera No, non so Lusi, ci sei? Dario, devi rimanere fino a Natale Fino a Natale, Dario Giocano questa merda Come fa? Guarda che casualità, comunque Lusi e Dada non si stanno credendo uguali Cosa vuole? Perché è bellini? Non mi ha quella corona, comunque Lusi non ti sento più No, Lusi non ti sento Però gioca, eh Stai giocando Hai visto che siamo destinati Abbiamo la stessa corona? No, non vedo io C'ho... Il cappellino da... No, no, no Com'è il cappello? Aspetta Sì, no, no, no No, aspetta No, aspetta Guarda, ah, guarda Guarda, guarda Che... Wow, che bello Guarda, guarda Il pettacolo Ancora scoppietta? No, no Va benissimo Lusi, ti posso dire una cosa? Lo sai che in realtà Non è l'unica coincidenza Lo sai che C'è Diego Che fa il bacio ASMR Quando ti abboni Ah, sì? Devi sentire, Diego Dai, fammi sentire No, l'ho disattivato Non lo posso rimettere No, non è vero Non è vero L'ho tolto L'ho tolto Davvero, no Giuro, non è vero Possiamo giocare, ragazzi Siamo per tre ore che siamo qui Dai, dai Maseo è carico, vero Maseo Guarda, non mi sto arrivando Ma sia cacca? Ecco Vai Le regole Le regole Barabba Le regole Eh? Taglio la lingua La lingua Maseo in test Spieghi come funziona Maseo, per favore Spiegate Non sento niente Se fosse un altro discorso Che stavo andando Non sento Vai Alzo il volume Aspetta Aspetta Cazzo il volume Sì, sì Ehm Sai che se non starti dopo un po' crasha per inattività la room Oh sì Come cazzo si gioca? A rigreo A rigreo Ma come come si gioca? Non so Lucy Che cazzo devo saperlo? È tipo lupus in fabula C'è un assassino E noi dobbiamo scoprire chi è Ci sono le guardie Ci sono sei Sei Ma ci sono le guardie Grazie per leo Devono fare Le guardie Ma ci sono i ruoli? Ci sono Ci sono i ruoli Ci sono i ruoli Ma chi è questo Veneto con sto aceto? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Dato dai partiamo dai Tanto vuole esperienze con le pratiche Va benissimo Vai Sono pronto Este di cazzo Codo? Sarà nel uso Bevo 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 ragazzi Bevo Prendi quella cazzo di gatta per la coda e farla roteare Si mappa scelto lo scammer Come si fa? Devi fare le tasche Mutatevi E come devo fare? Ti avvicini e ci premi sopra Dove le vedo? C'è la mappa Ma che cazzo? Devi premere tab per la mappa dove c'è i punti scavati vicino alle tasche Non vedo niente Non schiaccio il cazzo Ho aperto una porta come si fa? Avevo il covid ma hanno decontaminato Come... Oh ragazzi Cosa? Oh 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 Che è successo? Ma ti rendi conto? Dario è già morto Che sembra? Ma cosa vuol dire? Beh E dove l'hai trovato dai L'ho trovato? L'ho trovato Che cazzo ne so E Eh A sinistra a destra Dio bono Dove? Sopra? Sotto? Ma come si fa? Votare di morire qua Io no Che cazzo devo fare? La prima volta che gioco Io devo Votare Vai allora Ma come? Devi dire perché voti qualcuno Vabbè Lui era con me Io schifo Merda Era vicino a me Che è vicino a me Merda Era vicino a me Ma non mi fido di voi due Quindi che cazzo è stato raga ditemelo perché non so che cazzo è stato Secondo me è stato la fine di Barabba È Masseo quindi Non so che come si fa No C'è Barabba che era fermo e ci stava osservando a me a Masseo Se sono il primo in la fila io Ma quindi Barabba fuori? Dai Barabba ma sei una merda Fuori Oh cazzo Riproviamo Io non vedo i cose che devo fare Premi tab E ci sono tutti esclamativi Non c'è niente Allora premi sulla rotellina in alto a destra Ok E metti mouse più keyboard Ora premi tab Ok Ora dovrebbe essere a posto Hai capito? Ah ok vedi da lì le cose Si lei ne sa una più del diavolo No Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi mandare tutti a fare la task Cosa succede? Esplode la madonna qui Eh si dobbiamo c'è una freccia senti non ho le motorie cose grazie stiamo andando perché che ma ci chiamato la testa eliminati ma come questa cosa grande lori prima partita letteralmente best compagno no io ci sto adesso mi ha detto che la stessa disconnesso una domanda brucia pelo ma non ho percepito che non l'ho guardato nella guardare bene secondo me vado a fare la reaction aspetta che gli apre il profilo di twitch aspetta su instagram lo trovi davanti sono veramente sì ciao gusti e mi sembra un incrocio tra fieri che il masseo ma che cazzo stai dicendo di ma se ho pelato quindi vederlo vai a vederlo sono un cazzo di animale dello so porco chi mi ammazza lo sboilo parlare la la zona vada hai zitto ma cosa devo fare ogni volta aia 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 di o sbagliato aia 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 Mastro che Tu sei Mastro? Io sono Dada Che parlo in terza persona E chi ne so tu hai chiamato l'assemblea No l'ha chiamata Mastro L'assemblea non io Ragazzi è palesemente Mastro Perché mi stava aspettando a finire la tasca Per poi ammazzarmi dai Ma non puoi parlare Ah è vivo Dario può parlare Vai Mastro Hai visto un cadavere fino a fuori Sì 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 Morto morto Fuori fuori Io non ho visto Non accuse perché poi dopo magari No l'uso mertà no però No no ragazzi Avete sbagliato Ciao Mastro È Dario di sicuro ragazzi È Dario Infami del cazzo Non ho detto ragazzi Fidati di me Adesso seguo E spoiler Puoi fare le tasche comunque da fantasma Ah posso fare le tasche No ok Sì sì Fantasma di Dio Che cosa vinco Guardi Come è U Che bisogna Ha Il codice Finisci il codice Con il serito Lu Siamo sbagliato Ehm Io Ragazzi Mi richiesto io Che è successo Eh ragazzi Mi spiace dirlo Perché ho un fratello Però è Dada Ma Dario Ma non puoi votare la gente a casa No Cosa Ma se sta L'hai visto ammazzare qualcuno No ma Dario sei una merda Hai accusato il tuo No rega Dario e Mastro stavano insieme Come prima Come prima Stavo aspettando che finissi una tasca E che la gente si allontanasse Per estruzzarmi Ragazzi Ragazzi No E che buttavo fuori il mio compagno Mastro Dario E non ha mai ucciso nessuno Io voto Dario Ah pure Vabbè Ti preoccupa Tanti voto io a te Merda No Bravo Dario Io ora sospetto di Dario Però Si è stato anche meglio così Nei fantasmi mi possono parlare No No Morte di Pronti No Salve giovani Ciao mangaka Ciao mangaka Mangacone Ciao ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Bella Ditemi tutto Stiamo in game Un attimo Stiamo in game Ok Cosa devo fare qua Ok Non ci spensi te Faccio io Faccio io Che mi fa Fatto fatto Ok No 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 Ho sbagliato il colore Prima Perché sono dal tonico Non era data Poverina Era prima E vai Ma prima che cosa Mi stavo intendo a te sempre Ma prima che fai cosa Se sto intendo a te sempre E' quello che mi guardavo Prima non da dove Non è scusa Ma se sono sempre con te Non ti ammatto Come faccio a essere io Ma ragiona Ma per me è Dario E' Dario E' Dario totalmente Allora se non è free wifi E' Dario Se non è free wifi E' Dario per forza E' dal primo studio Io mi fite di Dario Mi fite di Dario Mi fite di Dario E' dal primo studio Il turno che dico Che sono insieme a lui E non fa niente Se non è free wifi Dopo votiamo Dario No Sei morta Ma come stanno Ha né un primo ammazzato Ma scusate Ma sono morti La gente così Vincere Facciamo così Più forza E' scusa Ma di uno a morire Facciamo Lo si Vuoi Io non ti avrei Mazzato Lo si Ma facciamo così E adesso Voto free Muori free No E poi dopo Ha vita Delle persone Importanti scusa e vedevo in sala d'attesa ma viro di gatti su bravi e complimenti un altro morto sulla coscienza corriamo alla sala d'attesa no luci ti giuro io ti ora ti mando i 40 anni sotto il canale porta una sega controlla che non ammazza controlla che non ammazza a me mancano otto anni cos'è sta roba puzza di merda questa situazione non lascia giocare così che ti gioco come cretini ma perché poi non parlo non ce l'ho al microfono attivo e pega totale cazzo faccio non lasciamo a chiamare durante l'emergenza devo premere una cosa siamo rimasti soli in tre ebbè sì prima se neanche atto è morto scusa non avevo guardato bene è dario si si fa pure quanto importa cazzato è arrabbiato pezzo è arrabbiato mi sa no non sono io quindi avrete vinto sei tu sei un manovratore assurdo complimenti a me complimenti dai io non vengo più affatti a just dance te lo giuro ho paura ora mandi un'altra no 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 che sei incastrato da sole assurdo oppe manipolatrice è incredibile hai mutato un make ci hanno manipolato tutti lori non hai qualche like da lasciare su instagram free non hai qualche mattone da sopprini da comprare poi c'è ci sono altri allora c'è hai delle storie non visualizzate hai delle storie non visualizzate vai per favore sbrigati è man gaga date il codice fate entrare man gaga ciao man gaga ciao man gaga ciao man gaga ciao man gaga a stanza e metti questo codice ok non è minosa quando siamo in game c'è caso di non parlare no ma se siamo ok divertiti data mi raccomando aspetta monca d'abrio che devo fa lusilene oddio oddio sta fingendo guarda guarda ma mi ammazza lusilene ma ammazza monca d'abrio se può fare presto start che cosa ma chi è no stavo tutti qui vaffanculo ma mi dici di fare altro qua io c'ho paura di lusilene raga oh c'ho fatto il corpo c'ho fatto il tetto c'ho fatto il corpo è morta è morta è morta lusica ma che è successo è morta era a destra in basso a destra nel corridoio in basso a destra io ero a sinistra insieme a mastro come fai a un certo punto eravamo tutti insieme e mancavano solo quei due in electric però c'è devi tranquillo lì da una morte ma perché dava sta zitto no no sto ascoltando quella versione di barabba io stavo da un'altra parte io ero da solo da fare ma io stavo lavorando cosa volete da me io sono un lavoratore onesto ma che lavori stavi facendo le mie tasse le tasse sono loro io e chi è? grazie grazie del cuore ma chi è? mi ho visto una merda sei? ti ha visto? tu Dada cosa? non l'ho capito perché ma stava votato Dada non stava Dada non stava facendo le tasche sono sicuro come no ma che cazzo vuoi? cosa Dada? no no ma è sempre la colpa a me mangaka dov'era? ma che è successo adesso? io non ho capito ma è mangaka dai mangaka troppo silenzioso e vabbè se un è silenzioso magari è timido secondo me è mangaka che ha capito ma dov'è masto? io schifo non voto nessuno non lo so ma vaffanculo ragazzi vi prego ho scaricato steam 5 minuti fa qualcuno mi spiega una cosa mi fa che non mi ha dato una roba un po' norme è furbito si può di quella merda comunque secondo me è mastro ma porco due siete delle merde dove esplodere in questa astronave di merda niente non sei uscito nooo nooo come cazzo ero convinto di madonna ok dove devo andare caso in un turno già butti fuori gente ehi la devo muovermi non vuol dire inserisci la carta addio aiuta 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 vaffanculo mi accettava la carta no lasciami stare no vado a fare in culo dove devo andare aiuto merda è per vincere voci di tutti gli impostori oppure con predile tasks fanculo grazie a 100 per i 2 euro e 56 grazie a 100 per il morto cazzo a mignano ragazzi ho trovato il king morto in basso il king l'aspettavo di lui quindi non è non non direi chi possa essere è dario se lo ho fatto io no io no cioè ha pulito ha hai pulito la barbara d'urse insieme a mangaka e merda barbara d'urse si aveva la gara di su due se la nostra inizia l'unico che era vicino a me e al king era da ora tutto sulla sinistra a fare la linea e poi stessa anche te è che ho trovato il cadavere come faccio ma si lo riporti ma si può fare a fria ma vabbè ma però perché eravamo in tre non è barabba perché era come parlare con le cappette dai raga palese sono due ore che vota a casa d'aria due partite a terra e parte avete scazzato e scazzato bene però i ragazzi gli hanno scazzato sei morto eri l'impostroie perché barabba c'ha da fa esercizi inutile che fa tutti quelli esercizi inutili affanculo terly che l'hester bicipiti non si entra di qua come si entra così pronto si mi dica che cazzo faccio io ho fatto ho fatto tutto quello che potevo fare non so come fa si ferma di guardata ecco si è fatto pure marrone oh cavolo ma che cazzo fa no 4 no attenzione è fatto aiuta 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 C'è che esplode Fino di qua Barabba Barabba totale Sta facendo Ah no no l'ha riparato non è barabba Di là? Secondo me è Masseo Mangaga dici? È entrato qua dentro Non ha fatto nulla Forse perché non sa giocare Merda Chi pensa? Chi è? C'è entrato qua non ha fatto Chi è? Oh salta tutto Dovessi ricordare i morti che hanno delle tasche da fare Sennò non vincete Eh? Mi sono disperato All'ultimo secondo? All'ultimo secondo? Ho capito che si fa finalmente La mangaga Ma chi è che mi ha tirato il collo? Che palle Free Wi-Fi secondo me Ah sì sì vota Vota pure Comunque segnalo Scream sniping Di Free e Barabba No no Ci ho fatto Si scontano Prima Scream sniping Vabbè Prima Scream sniping Totale ragazzi Se lo sarei Vabbè Vabbè Provo per esclusione C'è un'attivazione con me Complemento a caso Ero tutto sulla sinistra Ah vabbè È Dario Cioè così a casa Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Siamo io te Lory E more Lory Poi ha detto Il corpo è la sinistra Io E altre due persone Vabbè 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 Facciamo te Dai Dai Rega Finite le streaming Sennò non è Non so No Lussi Brava Lussi Brava Gioca così Scusa Vai Lussi Ti sei meritato un bacio Asmi C'è un tecidi E un Dai Fammi sei la svasbra Non è bello però Vabbè Quello Meglio Vabbè Quello È È il mio Personalizzato Mica posso copiarlo Tutto per tutto Hai ragione Hai ragione Ma Lussi Ma Lussi Due impostori Ah Lussi Sta giocando Effettivamente L'hai offesa Ma che offesa Calmi 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 Non ci agitiamo Grazie Grazie Gioco nero 60 euro Scusa Completed Completed No Morto Moncas Lo so che non si gioca così Che morto Due Non mi male discutevo con la gente per un gioco Per un gioco Non è uno stronzo il killer Ragazzi Ho trovato Io ho trovato il corpo Devo dire la verità Mangaka non è Però Dove era il colpo Ma dove eri finita Scusami E non lo so Ero nella stanza quella elettrica Una certa Sono arrivati due persone Scattato l'allarme Ho detto no Porco Non è un'altra cosa Ma dove eri su Poi Stimile 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 Ma non è vero Io ero da solo Che credo Che ero con te Manca Ma c'era Fai Il video Come Sono Io ero con te Allora Loria Allora Ma io ero Solo Stavo sempre Tutto il tempo Lui sta negando E quindi tu stai Cercando appoggio Lui te l'ha negato Sei tu Colpevole Ma Emanca che cieco Ero di cianca lui No Io No Si dice Mi so Riusciamo Premerita Appoggiate Come Come detto Diagon Scusami Secondo me Lui si fa così No Guarda io Gioco uguale Sia da Normale Che da Assassini Ma Non ho fatto niente Madonna Ma Guarda che non mi fanno E come ho fatto Non mi fanno Non mi fanno Assassini Non andate me a fare In culo No Poi No Ma fa niente Da me a vita Studia Il gioco nero Grazie gioco Veramente Cazzo Che mi ha Un eliminato Come ti ha eliminato E io non ero nessuno Io Io ho sentito Diego che mi stava Dicendo una cosa Perché non mi muovo Eccomi Ah Ma come è vero No è vero Ce n'era tre Ce n'era tre Aspetta Aspetta Ce l'ho Ci hanno il culato Oh porca miseria Tutti qua Ci hanno il culato Ok Raga Ma mutate Mi cacchio Ma ammazza Ma ammazza Aiuto Scappa Scappa Ma ammazza Mangaka Deve mutarti Mangaka Zan 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 No volevo farti lo scherzo Scusami Vabbè Non mi fissi Cazzo Su discord Su discord Ragazzi lo so E' l'utile che lo schiedi 500 volte Ah Bene Ma ci mezzo io Vabbè Ho finito Perché sento il ritorno Di Lucy Lane In cuffia Vinto proprio Madonna Lo stream sniping E' proprio l'incubo Della società No vabbè Io pensavo fosse Mangaka Che mi stava inseguendo Tipo un pazzo Cazzo Volevo ammazzardare Ma non riuscivo a cliccare Il tasto Mi stavi inseguendo Non è che non riuscivi a cliccare Devi essere vicino E te l'avevo visto E mi avevi ad occhiato Ah mi sono ripreso in rosa Sì le storie Ok le storie Poi tu ci sono io Dario Tra l'altro Sì si appunto Eh sì mi snipe E tu salta Ma per meno Nel Lucy Lane Non è Lucy Lane Impossibile Ma come Lucy Lane E' finito il game Ma che cazzo Diciamo Ma è finito Vabbè Top Sei top Direi che sei un top Ma che cazzo che so Pensava a te Adesso una solo Come Diego Mi hai detto Ma che cazzo è Ho prima detto qualcosa Ho sentito una cosa Sui Da gente fidanzata Forse mi sbaglio Sì anch'io Grazie a sua moglie Per i 30 euro Grazie mille sua moglie Io non l'ho detto Ho parlato mai Sono salti tutto il tempo No ci hai chiesto Tipo se siamo fidanzati Sì anch'io Date il mio nuovo fidanzato Io e Lori No Non credo Dove abbia detto Una cosa del genere Comunque Sapevo che era Lori Comunque prima A mangaka Ero veramente vicino a te Sì anch'io Sì anch'io Silenzio Silenzio Ti ho Chi parla Quando non deve parlare E' incredibile Dove devo andare No di nuovo no Dai Fanculo Ho trovato Dada Il mio fidanzato L'avete ucciso Era nella sala Quella elettrica In basso Al centro Nascosto Nell'armadietto Dove era Di preciso Nella mappa Allora In basso C'è una sala Con tutti i cavi elettrici Quella che Dario Non riesce mai a fare Ma voi mi sentite ora? Sì sentiamo In mezzo Quindi In mezzo In basso Allora Io ce la direi una cosa Quella coi cavi Quella coi cavi Io ce la direi una cosa Non ho visto nessuno vicino Quindi sicuramente Sono scappati con la botola Io per un po' Ho seguito Mi sono fatto Figurare la barabba Non ha fatto nessuna tasca E mi è venuto dietro Quando vedevo che tornavo Mi faceva finta Di fare le tasche Però questo è il mio colore Mi guardavi E io facevo la tasca Anche Anche Mangaka Ha fatto questo giochetto con me Ho sentito a destra? Cosa è che giochetto io? Eh forse non è dito Non mi ricordo il colore La barabba Ho un film Ma io Secondo me Dario Sassi Inserciando la mia Ma stai dicendo La partita di prima Oggi Dado Cambionica dove Stai dicendo La partita di prima Non ho capito No no adesso C'era uno che mi seguiva È forse Barabba Non ero io No Non è vero Non ho fatto tasca Non ho fatto tasca Uno delle foglie a destra E ti sei dato Tutto a destra E io sento No Quella zona lì Non c'era le foglie Un cilalle Foglie Sì 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 Dove c'è Dove c'è L'ossigeno C'è 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 Domani facciano La indigata Perché No davvero Non ci posso Fere Grazie Matti Ma facciamo che vieni A palestrina E ti offri un caffè Ma Ma io Ma come ne hai raccorto Come ne hai raccorto Che vi donano tutti quei beats E io A palestrina No Barabba cacca Foto Ma qua c'è Stanno delle camere Ficata Cos'è sta roba Di schifezze Che schifo Mi hanno fatto scaricare La merda No È morto Ma no Grazie Allora Ho due comunicazioni importanti Uno È stato il masseo Perché l'ho visto scappare Io non ho scappato Due Due Stavo portando La merda Nello spazio Ma non ho fatto Seguendo il masseo La merda È scappato via È scappato proprio via Davanti a me Ho visto il corpo E poi Seconda comunicazione Per Dada Seconda comunicazione Per Dada Mi hanno fatto una donazione Chiedendomi di dirti Puoi dire a Dada Di rimanere umile Adesso che gioca Con i grandi streamer E considerare la sua chat Grazie mille Luci palese Luci Votata Allora State Uccidendo State uccidendo Una persona innocente E vi do un consiglio Visto che io sono innocente Vi dico che è il masseo Quindi correte in sala D'attesa Votarlo Vedete che non sono io Si è ricca delle merda E basta Luci palese Adesso vedrete che non sono io Però lo accetto Lo accetto Dopo una partita con Luci Lena ho capito Che quando è super Aggressiva È colpevole Commettiamo Vedremo Adesso vedrete che non sono Un'impostrice Mi sembravano Stati facendo un cazzo Quando è super aggressiva È colpevole Il pusseo Va bene Va bene Ok Tra l'altro ho visto che hai fatto l'emoticon È da 10 anni che c'è L'emoticon lì Ah sì Ah vabbè non l'avevo notata Sto sorry Usseo Mangaka mi ha votato Va bene Lo accetto Mi muto No Lei è il mastico Totale No Ma come facciamo Se lei si c'aveva il mio gatto Ah No vabbè Mangacone No bello Mangacone Allora Luci comunque Non puoi essere aggressiva sempre Anche quando sei innocente Se no uno pensa male Mangacone Sì è così che si gioca È così che si gioca No Devi fingere O fingi o se sei uguale tutti i turni Uno non capisce È per questo Poggerface Lusi lane Hai visto Dario Sono riuscito a stream Sniperare le streaming degli altri ora No Ma davvero No Non è vero Ragazzi si può dire Che vincono solo gli stream sniper Quì Stavolta sono d'accordo No mettiamo Ecco Mettiamo Un nuovo a caso Che cazzo ne so Diego No Dada Se tutti non vorrassi Dada Lo mancaresti Eh metti che tipo In un periodo di difficoltà Perché no Però cioè si deve dare da fare Per uscirne Perché se invece si fa mantenere Basta senza darsi da fare No Col cavolo Ok Grazie Lucia Adesso un bel Un bello spam di resident sleeper Su lasciati Dada Per favore Grazie D D Sniper Ah ok 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 Snipera Ok Zitti Zitti D Lezzi Perché No Loria fermo No 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 Io non mi fido Di sti figli di puttana Download E' tutto buio Aiuto Tuttoti Masseo tu sai che sta giocando Dada con noi Eh Dada sta giocando con noi lo sai ve Non lo so A posto ok E dovevo farlo per la donazione scusa Ma porca puttana della Dai ma m'hanno crepato Ma che palle È successo Allora io ho visto Scusa Ho trovato il cadavere Io ero Con Barabba Sì sì E non so se l'ha ucciso o no Io ho visto l'usilene Cinque secondi prima di fianco a Masseo Il più vicino a Il più vicino a Masseo era Dario Secondo me Chi è che mi ha accusato Chi è che mi ha accusato Come si chiama Allora Io ho visto l'usilene Cinque secondi prima di fianco al Masseo Non ho fatto niente Non ho parlato Mangaka Mangaka stava aspettando E stava andando a braccetto con un altro Erano in due Che si stavano organizzando Ancora vi fate Infognare Per me Dario ha avuto a caso Ma sei mal daca? Non mi votano E non sono Non mi votano E non sono Ma non mi votano Ma c'era l'usilene Cinque secondi prima Di fianco al Masseo Non mi votano Non mi votano Non mi votano Non mi votano Ma vinci chiudo più forte? Sì Posso dire la mia Per favore È tre ore che sto provando a parlare Quando io praticamente ho fatto la tasca Dada Ok questa me la segno Quando io ho iniziato a fare la tasca a nord Tutto a nord della caffetteria Sono andato sulla sinistra E Luca mi aspettava Mi sono avvicinato a lui Si è spostato un po' Poi ha visto che mi stavo Stavo andando a destra La mia seguite E io che mi spostavo da te Sì Luca Perché ti spostavi da me? Sentiamo Non so che sono le tasche Quindi ci stavo inseguendo Questa è una bugia Hai vinto Ora non sai cosa sono le tasche Luca Morfeo Ragazzi non ho fatto nessuna task Lo giuro Luca Non ho fatto che fossi solo per strozzarmi Vabbè quindi mangaka Va bene È mangaka oggettivo Va bene Si sta dimenando troppo Nelle sabbie mobili Io non l'avevo fatto nessuna task Ah ok T'avevo detto T'avevo detto Almeno una volta Sei grande C'è Poi aspetta fiero C'è per explodere la nave C'è per explodere la nave C'è per explodere la nave Ma le foglie Ma ci fanno le foglie nello spazio Dio caro Cos'è questa merda per terra? Ho trovato Minchia Dario era con me a fare le tasche Sì sì Dario era con me Sì Stava con me Decidiamoci Siamo in quattro Io stavo con Dario No no bimbi no 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 bimbi Io non ero con Dario Io non ero con Dario Stavo dietro di te Ero dietro di te Free Free Alla fine quando è stato chiamato Ero dietro di Dario Ma dove? Alla fine quando stavate chiamando qualcuno ha chiamato Diego Ero dietro di te A me non piace di stare in montagna e fare l'eco Perché è simbolo di stream sniping A me qui non mi sta bene Ma io mica faccio ego Aspetta Allora io il corpo A sinistra in alto Quindi Io ho visto a destra Per me sono male Dario Ma è già uscito uno No scusa Volevo dire Io ho ragione Io ero dietro Dario alla fine ragazzi Ero dietro Dario Parabba Parabba Dario non era con noi Dario di sicuro Non era con noi Vabbè Non ci posso credere Porro barabba Nooo E chi è? Ma è facile Ma è quello che c'ha il nome rosso Grande mangaka Non me la fa fare Come mi fa fare Perché sei un fantasma Maledetto 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 Com'era l'eco Dario? Com'era l'eco? Maledetto Senti l'eco Dario 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 Sappilo Mortaccio Vabbè Mi ha ucciso malamente Hai ucciso la tua fidanzata Renditi conto Buon cazzo Lucy Eh Se deciderai mai Di metterti con Dada Io sarò contraddizion Momento Pistorius No non lo farò mai Non ti preoccupa Barabba stop Momento Pistorius Un totale dissociativo Vabbè Mi hai fregato il rosa un'altra volta Mi hai ucciso E io ti ho fatto il rosa Distrutto cosa? Distrutto cosa? Ho recitato tutti da solo Distrutto cosa? No chi sei tu? Vai via Certo Basta che una ragazza dice Non lo farò mai Non mi ci metterò mai Cioè Basta una frase Vero? Te l'avessi detto io Maschilista Stronzo Vedi almeno Lucy Cica che è bastato Passare un attimo da lei E comunque il Masseo Non lo sa che ci sei Bella Diablus 28 38 mesi Fallo Sono morto Sono morto Ok Ciccio 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 Ci penso io Ci penso io Ci penso io subito Finisco questa partita E ti invito Ciccio Allora Allora FreeWiFi Mi hai inseguito tutto il tempo Oh l'ho remortato io Il calaveri Perché te ti comportavi In modo molto strano Ti stai messo in un angoletto Non è fatto nulla Sì perché Volevo far finta di fare la tasca Perché partita subito Sola difensiva Perché sei partita Sola difensiva Perché difensiva subito Lucy palese totale Vai Voda Lucy Lucy lei Via fuori Via 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 Ciao Ciao Lì nell'angolino Voleva usare la tua botolina E uccidermi Tu l'ha arrivato Dario Che gli ha rovinato la festa Non è vero Sei tu Ma guarda che bugiardo Sei un bugiardo Oggettivo proprio Non è vero No Dai Ti ti hai toccato nell'angolino Mi stavi seguendo E no Poi l'ho fatto E quando te ne sei andato via Con l'altro Non è vero Ero con Dario Dario può confermare Che non ho ucciso nessuna Sarete insieme a Dario Sarete tutte e due Dai vota Siamo killer Senta colpello Siamo subito sulla difensiva Dai Ma io sto sempre sulla difensiva Nessuno ha detto niente Sei partito subito E non va bene Dai Dario Voda La mia chat dice che giochi troppo aggresso Ragazzi Ragazzi ma il king La versione del king è che sta zitto? 30 secondi Dario Io ero solo Ma perché Messio non parla? Perché state facendo casino Non capisco il cazzo No vabbè Vabbè Ma lei è beccata la prima Vi siete fatti manovrarie Mi muto No Ok Brasile free wifi Di merda No dai scusa Io porto Dai Scatole cioccolatini Scusami Scusami Ecco Non scaricare le foglie Le foglie di merda Non scaricare le foglie Ma che sti codici del cazzo? Eh non sai mutare il microfono ragazzi Ah devo Ah vabbè Faccio così Grazie ma se hai fatto tutto tu Quando uno sta zitto Chiedete cose La versione del king Io ero da solo Guarda Io ho detto Ehi Maseo Cosa hai da dire? Che poi Che poi dire che sei da solo Non è un bambino Cioè dire che sei da solo Non è un bambino Merda 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 Con il Maseo Ci incontrovamo sempre Il corredore Stavo davvero che fosse elusi Erano in un angolo Ragazzi Mi fate fregare Mi fate fregare Non tirare in un angolo Io non mi fido mai di niente Nessuno E allora come fai? Aspettate che vuole venire a Ciccio Sì sì Ciccio Bene Dada Mi parti a vedere Rocca di Papa Primo appuntamento Dada Ha lasciato lasciato Cale Ehi ragazzi Che bello stile Grazie E vai si inizia Eh vai si inizia Salut Dove ti dice? Vabbè Ok no Tab 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 alla maka Ah esatto Premi tab E guarda dove ci sono Abbiamo cominciato? Al capitano Bello Belli Scento circonflesso Esplode la... E' la rota Esplode che è Mask Ho visto il mask che ha ucciso in pieno Cosa, da 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 Io non ho fatto niente Io ero a fare la cosa, la tasca Aspetta, il mask o il ciccio? Cosa hai detto? Ciccio o il ciccio Lusi palese Faccio fare a voi E tra l'altro stava venendo Stava venendo un tizio incontro a me E solo io e lui eravamo andati a fare le task Per l'astronave, dove erano gli altri? Ho detto io, però aspetta E poi era in basso In una stanza in basso sotto caffetteria E c'era ciccio morto C'era proprio sbudellato In pieno Io ho voto Barabba Poi vedete Io ho visto Barabba Io ho fatto la tasca Barabba è arrivato Ha detto Mastro Così Io voto al Mastro Voto il Mastro Anch'io Rai ucciso Va bene Voto il Mastro Dai Voto il Mastro Ma non ho fatto niente Io Ma incredibile Quindi è il Mastro Voto il Mastro Ah cosa c'entra il Mastro Ah ho sbagliato Ok Sono in mezzo al cazzo Ciao per l'uomo Io ho votato Mastro Sì è il Mastro Ma è vero Ma è vero E Mastro Potresti votare Esatto sei morto Oppure Ci sono altri 50 secondi Qua Vota Mastro Mastro Potresti votare Il tuo voto non è inutile No ragazzi No ragazzi Secondo me sì Non è che mi vota Dario così Stai sempre per il primo Barabba Puttana la vacca Stai zitto Certo votare al primo turno E beccare il colpevole È tipo assurdo Secondo me Il primo turno Secondo me toccherebbe Zompà Cioè non puoi Oddio a meno che tutti quanti Non l'hanno visto proprio palesemente No Che dite Oh che dite Cazzo Devo andare pure io a fare sta cosa Sì Sono aperto Zitto Ma che cazzo volete Non sto parlando Mica c'ho il bus Il barco Ma posso parlare con la chat Non sto parlando Eh Cadavere Riportatelo Sronzi Niente Di nuovo Ma chi è sto killer È una bestia Ma devo tenere premuto Allora ho trovato Mi fai festeggiare Ho trovato il corpo Del king Che si riprende Mi fai festeggiare Nei corridoi Per andare insieme a in caffetteria Quando c'era l'ultimo allarme A destra Ok No no E No 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 Cos'è che hai detto Nei corridoi A destra Per andare Mi sembra verso la caffetteria Se non erro Però non c'era nessuno Cosa vota lei Perché l'assassina Quindi Ho votato Ho votato Il massimo Perché ogni volta che lo incrocio Magari mi viene da dire No non mi seguire Il suo nickname Mastreo Mastreo Ma seo Mi confondo E allora Ma allora Vabbè ma allora Vabbè ma che vuol dire Ma che vuol dire Vabbè 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 ma che vuol dire Ma non ho capito Vabbè ma vabbè Ma vabbè Ma vabbè È una questione di esigenza Qui È una questione di esigenza Però che palle Oh Dario dove è in questo round Dario stava sempre con me Non è l'assassina Ok E che è molto valido Per rilassarla Nella tua sedele C'è mezzo round Ma vabbè Chissà di niente Ho capito Ho capito L'avevo dimenticato Sono pulito da prima Che ho ucciso Mastre Ho capito Dario tranquillo Con Barabba Non tanto Ovviamente Dario Moccia E Maceo Prima ho buttato fuori Mastre Come faccio a essere io Allora Dario Ragazzi Il Maceo è di un merda Immagino Dario non può essere Dario non può essere Solo io Dario Facci vedere il codice Non diremo nulla Per favore Ok Solo per il Michele No non mi può chiamare mai Sì Ma Lusi dove era Ciao Maceo Per me Lusi lei non si è mai vista E ha buttato a caso Il Maceo Dai Sì Dai raga Sono andata a fare In altra sinistra No sei tu Perché mi vogliono sempre eliminare Non ho fatto niente Prima perché parlavo Adesso perché sto zitta E non va mai bene niente Mi hai votato perché Per il Michele Eh bene sì Era un'esigenza di streaming No ragazzi Non ci hanno fatto le 20 A nessuno muore Eh no O il Maceo Zitti zitti Cazzo Come ci si sente Ad essere in età Dalla propria ragazza Diego Ma vaffa Lusi Vota un tizio Per il Nick E si chiede perché Tutti la votano Vabbè ma si scherza Segui il Maceo E tanto un po' Sto fancazzo Fatemi fare queste Via Arlock manifolds Tanto guarda Mo moriamo perché Non chiudono Il reattore Guarda eh Guarda 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 Minchia Guarda 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 guard In alto a sinistra Nella stanza dell'emergenza In cui nessuno di voi è venuto Senti il masseo guarda Non parla il masseo guarda Avete visto se votavate per il nickname Che concevamo in subito Sempre Interviene solo quando accusato Io 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 garantisco Parabba Garantisco Parabba perché è l'unico Che con me è venuto a salire E' mangaka Sì ci ha azzeccato un botto Vabbè Guarda che non ero io adesso Guarda che non ero io Allora vediamo mangaka se non sei tu Ah ha vinto Tiè Guarda la mangaka ha il centro vincitore La mia prima partita Ma tu sei una pippa di merda Come hai fatto a farti buttare fuori Alla prima botta Io ho ammazzato uno E' passato Barabba di merda E' passata la lavora Pio E' passata la lavora Donata E' passata ma Di merda E' passata la lavora Grazie a tutti.